qui abbiamo raccolto e preparato in eleganti scatole entomologiche centinaia di specie di farfalle e falene tra le più belle, grandi, colorate e rare al mondo e adesso entriamo nella sera delle farfalle in questa grande serra tropicale di oltre 300 metri quadri centinaia di farfalle volano e si nutrono sui fiori o sui frutti in fermentazione farfalle spettacolari e talvolta gigantesche provenienti dalle foreste tropicali di centro-sud America, Africa, sud-est asiatico sotto forma di crisali che avrete il privilegio di osservare fin dal magico momento della schiusa della nostra nostre Continuate a seguirci sul canale YouTube dove nelle prossime puntate cominceremo a conoscere tutte le farfalle ostili della casa delle farfalle a partire da lei, la farfalla cobra